Uros, benvenuto a Trento, prima giornata a Trentina, cosa ti ha spinto a dire di sì alla proposta di venire al Trentino Volley? Sì, ho finito con la Verona, è venuta proposta di Trento e non potevo dire no perché Trento è una squadra che non dice no. Hai avuto altre proposte, altre offerte durante quest'estate o hai deciso subito di venire a Trento? Sì, ho avuto qualche proposta però Trento è una squadra che io volevo venire a giocare per Trento perché è una soddisfazione enorme per me e pochi serbi hanno giocato qua, allora anche di più. Prima Modena, poi Verona, adesso Trento. È un nuovo capitolo della tua carriera, una nuova avventura alla quale chiedi che cosa? No, andiamo come ha detto, andiamo a Innsbruck, sul prossimo lato in Innsbruck. Allora sì, sono stato a Modena tre anni dopo Verona e adesso a Trento e sono molto soddisfatto di essere qua perché è una squadra che ha vinto un sacco, una squadra una di miglior di mondo e ha una grande soddisfazione per me essere una parte di quel progetto. Trento è una squadra nuova di Zecca, ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso, che squadra sarà la nuova Trento? Sarà una squadra forte come tutti gli anni, squadra giovane, squadra con tanto entusiasmo e con grande allenatore, con grandi giocatori. Allora sarà come sempre cambiato, come ogni volta dopo una stagione si cambia. Sempre sono ancora molto felice di essere una parte di una nuova stagione del Trento. Ma che diagonale sarà questa diagonale di schiacciatori Lanza-Kovacevic? Sarà perfetta. Gli obiettivi di Trento comunque è provare a giocarsi da fine in fondo in ogni manifestazione. Sì, certamente. Trento è abituato a giocare al finale. Adesso, secondo me, è tempo di vincere. E allora speriamo, speriamo di vincere qualcosa. Le trovi a Angelo Lorenzetti che ti ha portato in Italia insieme proprio a Bruno Dare. Si ricompone il trio che eravate a Modena e si ricompone con tanta voglia di far bene anche a Trento. Sì, Angelo e Bruno mi hanno chiamato quando ero molto giovane. Sono arrivato in Modena perché mi hanno chiamato proprio loro due e ancora siamo qua insieme e sono molto, molto soddisfatto per quello. Sarà un campionato di alto livello quello prossimo? Sarà un campionato molto difficile con tante squadre forti? Sì, questo campionato, volevo dire, quando io sono arrivato in Italia non era così forte il campionato 2012-13. Adesso tutti possono vincere contro di tutti. Allora contro di tutti devi giocare in 100% se vuoi fare qualcosa. Se no, puoi perdere contro di tutti. Nicola Gerbic cosa ti ha detto di Trento, visto che lui qua ha vinto non poco? Mi ha detto solo belle parole e lui era, io ho chiesto a lui perché lui era mio allenatore anche a Verona e anche in Nazionale. Gli ho chiesto cosa pensi, cosa pensi di Trento, di mia carriera di là e lui dice, lui mi ha detto guarda che in Trento è Trento e Trento proprio e quando mi ha detto questo ho deciso di sicuro firmare per qua. Ultima cosa, chi c'è un europeo con una medaglia di bronzo? Sì, ancora una soddisfazione per mio paese. Sono molto 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 contento di portare bronzo a mio paese. Purtroppo abbiamo perso semifinale così come abbiamo perso sopra 2-0, abbiamo perso 3-2, però questo è pallavolo e non posso dire niente di più. Sono molto soddisfatto di essere terzo perché abbiamo vinto ancora una partita contro di Belgio 3-2 e è una bella soddisfazione questa. Bocca al lupo Horace. Crepe al lupo. Crepe al lupo.